Allora oggi è mercoledì 16, oggi è 17, un numero che ci piace molto, siamo in presenza del maestro d'arte, Roberto Fallani, perfetto Roberto, è un piacere di averti tra noi qui su internet, sul web, parlaci un pochettino di questa mostra. Una serie di quadri, ci sono molti di più, che io ho fatto quasi 50 anni fa, li portai a New York quando li feci venire da Valpulismo, mi disse che ero un pittore post-atomico e che era impossibile negli anni futuri chissà quando fare una mostra. Eri già oltre? Eri già oltre? Praticamente avevo centinaia di quadri, smesi di pitturare e cominciai a fare installazioni, tutto quello che ho fatto nel futuro, che ho 57 brevetti, ho un inventore, sono caricatore di gioielli, sono designer, sono anche altre cose, non mi ricordo più quante cose ho fatto. Quindi Roberto Fallani, inventore, artista, artigiano, designer, è tuttora operante. E' artista, certo. E' artista, molto operante. Molto operante, anzi, è un momento che era pieno di sintesi ora, è la sintesi di tutto passato. Quindi intanto apprezziamo la gioiosità e l'espressività dei tuoi occhi. Che fin dall'inizio ci hanno colpito. Sì? Sì.